Maltempo, gelo o neve sono gli agenti atmosferici a creare i danni da erosione sul territorio. Di anno in anno a pagarne le spese sono tutte quelle attività che esercitano lungo la costa. Francavilla con 7 km di estensione combatte da anni il fenomeno. Noi non sappiamo quando verranno destinati i successivi fondi e bisognerebbe iniziare a programmare, cosa che la Regione fino ad ora non ha fatto e fino ad ora mi riferisco alle precedenti amministrazioni. Io spero che con il governatore attuale, con Luciano D'Alfonso, si cambia registro e quindi si faccia una programmazione seria e si inizia a parlare con delle scadenze precise di ripascimento. Indicativamente quanti metri di spiaggia sono stati erosi negli anni? Questo dipende dalle zone perché c'è il paradosso che alcune zone tendono anche a crescere, però noi abbiamo 7 km di costa e abbiamo attualmente almeno 4 punti dove ci sono estreme criticità, cioè dove l'acqua del mare in sostanza è arrivata al ridosso delle abitazioni e delle strade. Nuovi fondi da cercare in un'epoca che conta con il contagocce e le risorse da erogare. Si parla di un fenomeno che se prima toccava la costa senza mettere a rischio aree più popolate, ora invece su alcuni tratti raggiunge le aree abitate. Eh sì, noi ci rendiamo conto che la Regione compie un enorme sforzo, abbiamo appena finito, costando per terminare i lavori di ripascimento per un milione e mezzo circa di valore, però queste opere come al solito non sono mai sufficienti, c'è sempre una rincorsa, quindi io direi che è il caso di prendere di petto questa situazione perché con le ultime mareggiate siamo punto e a capo, la nostra costa è stata danneggiata e quindi il nostro turismo è messo a forte rischio. Grazie.